Benvenuti in un nuovo episodio di Minecraft Lassian Awakening. Rispetto allo scorso episodio ho aggiunto due laser drill, o quella dati al massimo. Avevo detto che ci mancava la glowstone per poterli fare, ma questo laser base ci ha dato della glowstone insieme a tutti gli ore, eccetto quello che stavo cercando, come giusto che sia. È notte e in vez di continuare con la tecnologia, volevo provare a fare un paio di lens. Quindi ce le craftiamo, quattro, e ne farò due alla volta. Da queste vanno messe qui, insieme a delle parchment, e possiamo disegnare sopra queste parchment. Qui ci sono le costellazioni che sono al momento nel cielo, e stasera non c'è nulla di ciò che vorrei fare, quindi per adesso lo lasciamo qui. Oggi avevo intenzione di proseguire subito per fare un po' di industrial machine chassis, solo che bisognava fare industrial dye blend, e ho notato che richiedeva del cactus. Ora, questo è il nostro sistema dell'appied, una componente di tre blocchi e basta, e la nostra base è organizzata solo ed esclusivamente per quanto riguarda la produzione di energia. Qui produciamo un sacco di ore, ma vanno a finire tutti in questa cesta, senza essere processati, e qua abbiamo dei drawer che sono collegati dal sistema della lead. Qui avevamo la produzione di semi che ho tolto, quindi non li produciamo più. Direi di iniziare a produrre cose che vengono viste magari dall'emme system. Quindi, plant, interactor, e ci piazziamo tutti questi semi. I cactus e le sugarcane no, ma questi sì, e magari anche quelli della roots, perché no? Dovrebbe funzionare. Ora che abbiamo un metodo per la raccolta automatica, questi aquarium soil non ci servono PV, invece li convertiamo in Terran soil sotto livello 30. Tra l'altro questo mi sono accorto nello scorso episodio che non l'ho fatto vedere, ma qui sotto, molto sotto, ho fatto un'aria, ho ripulito dal ghiaccio, in cui piazzare il fuoco, plug, e il software infiniti. In ogni caso, se druppiamo l'elemental soil qui, dovrebbe convertirsi, esatto, in Terran soil. La cosa divertente è che dopo aver fatto tutto il Terran soil, aver messo il plant interactor, mettere C-run, C-upgrade, dargli l'energia, spostare il rituale. Questo è il rituale che avevo fatto di Aevitas. Mi sono accorto che non mi piace e che faremo i miei Garden Closh. Però non è del tutto spiegato. Lo utilizzeremo lo stesso, principalmente perché i semi della roots non possono entrare all'interno del Garden Closh. Quindi siamo obbligati a farmarli in questo modo, che va bene, alla fine questo non andrà spiegato. Quindi ho piantato qui tutti i semi della roots, ho messo qua tutte le cose vanilla che mi servivano, e in questo crate otteniamo tutti questi item in modo completamente passivo. Ora invece direi di fare dei trim per farci il framing table, e vorrei provare a decorare i frame drawer. È una cosa che di solito non faccio mai, ma perché no? Proviamoci. Infatti però lo metti qua, metti il frame drawer qui, e gli dai degli item con cui dargli il colore. E giusto per provare lo facciamo di Xenstone, Hemcrate e Spouse Wood. Sì dai, non sembra malissimo. Anche se giusto per restare più in tema pack, direi di farlo tipo neve, quindi. Marble, Permafrost Brick e Zenstone. E ce ne facciamo un paio, perché ne ha fatti solo... Ah, perché... ok, va bene. Poi ovviamente ci facciamo il drawer controller, e lo colleghiamo a questa farm. Ed ecco qui il classico muro di drawer con tutti i componenti. Tra poco ci metteremo un export bus. Fra l'altro qua stiamo producendo dello sludge, quindi perché no? Mi sono fatto uno sludge refiner, che dovrebbe convertire lo sludge in dei blocchi particolari. Ora sono curioso di vedere se nell'area in cui processa fa qualcosa. No, perfetto. Quindi questa farm ci produrrà anche questi materiali. Clay, dirt, gravel, micelium, puzzle, sabbia, sabbia rossa e soul sand, che è un extra che non butto via. Mi ero dimenticato che in questa versione i drawer droppano quello che contengono, quindi bisogna stare piuttosto cauti, diciamo. Li sposteremo utilizzando i cardboard box. Non possono essere inseriti all'interno di un cardboard box? Uh, possono essere spostati con la carion? No? Ok, interessante. Questo rimarrà qua per ora. In ogni caso, ho ripienato un pochino questo chunk e qua direi di fare la produzione delle materie principali, tipo ferro, sabbia, vetro, cobblestone, eccetera. Quindi spostiamo quel sistema qui e magari lo veloci diamo anche un pochino. Noi, ripensandoci un generatore di stone vanilla è proprio brutto e smette di funzionare troppo spesso. Volei provare a vedere quanto veloce è una material stone wall factory. Beh, beh. Ok, con tutti gli upgrade ne basta una. In realtà pensavo di doverne fare quasi di più, ma è straveloce. E non è neanche bisogno di acqua e lava. Ottimo. Il piazzamento e l'ottenimento dei vari ore lo faremo mediante l'uphead, quindi ci facciamo un altro M controller e lo faremo mediante gli Annihilation Plane. Ce ne facciamo 8 e poi ci facciamo 8 Formation Plane. Ci facciamo un po' di cavi e il controller, per esempio, possiamo metterlo qui dietro. Poi, qui al lato ci mettiamo l'M Import Bus e un Glass Cable per collegarlo. In questo modo dovrebbe vedere la stone. Qui ci facciamo un bel anello con i Formation Plane. Possiamo già vedere che sta funzionando come non dovrebbe. Mentre adesso sta piazzando la stone. Ottimo. E poi ci mettiamo l'Annihilation Plane che colleghiamo qui sopra. Perfetto. Questa sera ci sono tre costellazioni che volevo utilizzare, cioè Armara, Aevitas e Gelu. Quindi trasciniamo Gelu qui al centro. Poi ci trasciniamo Armara e cerchiamo di mettere i puntini sovrapposti fra di loro per quanto possibile. Quindi così. E poi ci mettiamo Aevitas, sperando che non si bruci. Quindi tipo così. Ok, si è bruciata. Bruciata di nuovo. Speriamo che adesso vada. No. Ok, adesso si è completata. Quindi ci abbiamo l'Engraved Glass con Aevitas al mare Gelu. Possiamo togliere i Parchment. E per esempio ci mettiamo il Mantle of Star. Adesso fa una bellissima animazione. E dopodiché avremo il Mantle of Star incantato. Ci abbiamo Mending 2, Protection 4 e un Breaking 4. Speravo in un maggiore ambuli, in un maggior Protection, ma va bene. Nel frattempo ho anche messo a cuocere un po' di Tin perché ne avevamo davvero tanto e non so perché così. Ho sistemato Mineralis. Qui abbiamo la Stone War Factory che fa la Stone. Viene inserita all'interno di questo Drawer. Qui abbiamo due M-Controller. Il primo prende, mediante un Import Bus, la Stone. Mentre il secondo, questi due sono collegati con i Quartz Fiber per evitare casini con i canali. È collegato a queste Formation Plane che prendono la Stone e la piazzano. L'altro Controller, invece, è collegato a queste Annihilation Plane che quindi distribuono qualsiasi blocco che c'è sopra. E poi qui sotto, con uno Storage Bus, ha due Drawer-Controller. Questo, che ha tutti gli Orr, e questo, che ha tutte le varie gemme. Come faccio a filtrare la Stone? Praticamente filtro il contrario. Cioè, lui rompe solo se ha uno spazio in cui mettere ciò che può rompere. Quindi, se per esempio c'è un Orr, se io gli tolgo questo Drawer, lui non ha più un spazio dove metterlo. Ok, questo non devo farlo. In ogni caso, possiamo vedere che, per esempio, l'Oro non viene più preso, perché non hanno spazio dove andare. E anche l'Iron e il Copper. Quindi il sistema funziona più o meno così. Adesso sistema questo. Stavo per collegare questo muro di Drawer e ho visto una stella cadente. E, a proposito di queste stelle cadenti, ho notato che sono intramondo. Infatti posso vedere anche quelle di MC Eternal, che è molto strano. In ogni caso, Shining Casing, che ci dà un Ascent Squad. E abbiamo imparato Ulterior Enchanting. E se adesso andiamo su Knowledge, Ulterior Enchanting. Ok. Infatti adesso ne abbiamo scoperto solo una, però abbiamo anche queste, che sono quelle di MC Eternal Light. Ok, Storage Bus collegato. Quindi adesso possiamo vedere tutto, tra cui il Cactus. Quindi ci possiamo fare un po' di colorante verde. E possiamo continuare con l'Industrial Dive Land. Ci priorizziamo un po' di Coal. Poi, Carbon Dust. Cactus Green, Slime Ball qualsiasi. Ci danno l'Organic Green Dye. Poi abbiamo bisogno del Black, che è solo Slime Ball e Carbon Dust. E anche di questo ce ne facciamo 6. E poi abbiamo solo bisogno della Polvere di Lapis. E ce ne facciamo uno Stack. E ora possiamo fare l'Industrial Dye Blend. Esatto. Ne facciamo 18. Spero che basti. Anche perché non possiamo farci altrettanti Simple Machine Chassis. Ne possiamo fare 7. E se ne mettiamo qui dentro con l'Industrial Dive Land possiamo fare l'Industrial Machine Chassis senza tutti questi giri. Molto, molto meglio. Con la produzione di questi Industrial Machine Chassis ci si aprono le porte per vari mod. Direi di iniziare per prima la Deep Mobile Learning, Reserve Simulation Chamber e Loot Fabricator. Quindi ci prendiamo un blocco di Cold, lo ci mettiamo qua, e ci facciamo tasto sinistro con la Redstone. Otteniamo la Suit Covered Redstone che ci mettiamo nel sistema e con qui possiamo fare Suit Covered Plate. Ce ne facciamo mezzo Stack. E poi il Suit Covered Machine Chassis. Ce ne facciamo due per il momento, anche se ne sono sicuro ne faremo di più. Poi ci servono dei Comparator. Ed ecco qui una Simulation Chamber e dopo aver recuperato il giallo un Loot Fabricator. Questi cerim attacchiamo alla corrente che se non sbaglio hanno un buffer enorme. Sì, piuttosto grande. E dobbiamo inserirci un Data Model di qualcosa. Direi di iniziare con gli Enderman. Quindi ci facciamo un paio di questi Blank Data Model e poi con... Ho finito gli Enderpearl? Sì. Però se non sbaglio sì, ne avevo intrappolato uno quindi possiamo spawnarli. qui per cercare di ottenere un Enderpearl perfetto. Quindi lo combiniamo insieme e otteniamo l'Enderman Data Model. Poi abbiamo bisogno del Deep Learner e questo, se ci mettiamo l'Enderman Data Model qui, ci consente di upgradarlo uccidendo Enderman. Quando arriva almeno al Tier 1 possiamo metterlo all'interno della Simulation Chamber e iniziare a processarlo in modo automatico. Se possibile mi piacerebbe anche fare questa spada che ha dei bonus molto utili e direi di farci la Tariel Keystone e di provare ad evocare il glitch. Quindi ci serve un altro Suit Covered Machine, un'altra Enderpearl. Fortuna che abbiamo questa fornace che ci produce Essenza, quindi ce ne spugniamo un altro e speriamo che anche lui ci droppi l'Enderpearl. No, abbiamo un altro. Ok, lui ce l'ha droppata. Quindi possiamo farci la chiave e la Tariel Keystone. E in realtà dato che è noto direi di andare a cacciare un po' di Enderman dato che ci siamo. No, cambiata idea. In teoria non ne mancano tantissimi, quindi ne spugniamo un altro. E anche lui ce l'ha droppata, dannazione. Ok, lui ce ne ha dato un'altra, quindi possiamo farci un'altra Tariel Key. E con questo andiamo a ucciderci un Enderman. E già che ci sono vorrei farmi anche uno Zombie Data Model e Witch Data Model. Ora, questa non sarà sicuramente l'armatura migliore, ma proviamo a incantarla lo stesso. Potrei farmi un'altra di migliore, ma va bene anche questa. Poi ci troviamo in qualsiasi posto piano e anzi prima quasi quasi mi prendo un Grindr. Non so se può aiutarci in caso, proviamo. Quindi ci mettiamo il Mob Crusher qua. La Tariel Keystone qui e poi la Tariel Key dentro e dopo aver ripulito una zona relativamente grande, forse adesso funzioni. Ci metterai comunque per esempio il Mob Crusher qui sotto, tanto l'aria dovrebbe essere sì, in altezza. Adesso funzioni? Sì, possiamo iniziare la battaglia. E sì, vengono uccisi automaticamente. E abbiamo ottenuto due Christine Enderman Meter che ci possono dare delle Enderpearl 6 e 12. Ci facciamo spawnare per l'ultima volta un Enderman. e ne attuniamo altre due. Questa volta però disabilitiamo questo e riproviamo. Ok, rifacciamolo. E questa volta ho controllato il datamodel aumenta di esperienza e in ogni caso credo che sia meglio andare in giro alla notte a cacciare i mob. E dato che ci sono mi faccio anche il datamodel del Creeper. E mi incanto anche il Mantello of Star per il volo. No, non va. Peccato. E con questo siamo al Basic Tier degli Zombie Basic Tier dei Creeper Tier Advanced degli Zombie e ora quello di Zombie è Superior. Ottimo. Ora, nelle tre di livello più alto c'è una possibilità più alta che il Leech possa spawnare. Quindi, si spawniamo uno Zombie e attiviamo tutte le varie key più di lui. Dovrebbe essere Tier Superior, esatto. per esempio qui a Fixed Empowered Glitches. Quindi, se lo mettiamo qui dovrebbe spawnare un Empowered Glitches. Sì, attiviamo questo e vediamo se spawna. È bellissimo vedere gli zombie spawnare e morire subito comunque. Forse spawna adesso il glitch? Io non lo vedo. No, mi sa che non è spawnato. Hm, tra l'altro le Christine Zombie Matter sono davvero strautili perché ci possono dare sedici di eronci a scuna. C'è davvero tanto. Forse devo essere io a uccidere di zombie. Ho disattivato il Grindr quindi vediamo come va così. Oh, sì, Glitch. L'abbiamo ucciso e ci ha dato due Corrupted Glitch. Possiamo riattivare. Ok, ottimo. Questo va fatto scontrare contro l'Ossidiana e ci dà tre Unstable Glitch Fragments. Questo va droppato nell'acqua insieme all'Apice Gold per darci il Glitch Infused Ingot. L'altro ha notato che Geno ci ha dato Frost Walker sui Boots che va bene più o meno. Ci possiamo fare la spada in ogni caso. Questa è la cosa più importante. Poi ci facciamo un Enchantment Extractor che mettiamo qui perché vorrei estrarre Mending Looting più che Mending e ci mettiamo sia Sharpness sia Looting 1. È passato un po' di tempo sono andato a caccia la notte questa spada adesso fa 24 di danno e ho ottenuto un Zombie Data Model con il Tear Self-Aware gli Enderman Tier Advanced e li sto facendo livellare passivamente adesso abbiamo 4 Pristine Enderman Matter qui ci abbiamo il Creeper sempre Self-Aware e ci abbiamo 10 di Pristine mentre la Witch è ad Advanced di Witch se ne trovano poche e ne abbiamo 7 questa è Glowstone ognuna di queste Pristine Witch Matter è 32 Glowstone che non è affatto male ora vorrei farmi un Sag Mill ci manca solo il Dark Piometal Gear e devo dire che dovremmo trovare un modo per poter automatizzare il Grace of Infinity e si può utilizzare o con il Sag Mill con un Compressor di Infinity Dust Block c'è una possibilità che ce ne dia uno in più però è solo il 5% il Double Compressor non è male perché al 5% c'è un blocco in più e forse anche altre Grace of Infinity però bisogna prima ottenere tanta come ne otteniamo tanta prima percentuale con il fuoco nella Bedrock oppure con la Firewater io direi di fare la Firewater per questo ci serve un Watt quindi facciamo altre 2 Basic Fluid Tank ed ecco qui il Watt quindi ci prendiamo un Basic Capacitor ce lo mettiamo qui dentro questo è il Watt gli diamo patate e zucchero poi gli facciamo prendere un pochino di acqua da un Sink ok perfetto ha iniziato a funzionare e ci ha dato un secchiello di Fudge ora noi ce lo prendiamo poi spostiamo questo nell'Output e lo bruciamo e ci rimettiamo lo Fudge nell'Input e mettiamo Blitz Powder e Redstone e questo ci darà un secchiello di Firewater ora con un po' di Pulsatting Iron ci facciamo un Pulsatting Crystal e poi una Vacuum Chest ci prendiamo anche un Drawer questo non è importante che sia carino perché ce lo andremo a nascondere qui sotto nella nostra vecchia produzione con Inflint and Steel se ci mettiamo la Firewater qui ogni tanto dovremmo ottenere della Grace of Infinity e qui ci metto la Vacuum Chest esattamente sopra in questa modo tutta la Grace of Infinity che viene droppata dovrebbe andare qui dentro giusto il range è abbastanza buono oh sì abbiamo ottenuto una adesso quindi ci mettiamo un bel Drawer qui sopra e non ha l'auto output e come si può vedere da qui ne abbiamo appena ottenuti due quindi li estraiamo e li mettiamo dentro il Drawer in questo modo è una farm passiva di Grace of Infinity qui ho anche messo una farm di Clay in pratica ci abbiamo la Liquid Starlight e la Lava che creano la sabbia qui c'è un Collector Crystal linkato a questo pezzo di sabbia e il Collector Crystal la Convert in Clay qui c'è un Annihilation Plane e qua ci abbiamo un Drawer per la Clay Compacting Drawer viene anche visto dal sistema con lo Storage Pass però dobbiamo stare attenti a non mettere mai qui un Drawer con della sabbia altrimenti inizia a prendere tutta la sabbia inoltre sto utilizzando il vetro che ho utilizzato per incantare l'armatura anche per gli oggetti perché in teoria sì dovrebbero darci Mending e Unbreaking che non è male avevo intenzione di metterci anche efficiency però anche questo va bene io sto per farli durare un po' di più quando li uso perché tanto poi si riparano da soli quindi Mending è un extra vorrei almeno iniziare la processione di tutti i Dior prodotti dal rituale quindi ho aggiunto tutti i Compacting Drawer necessari poi ci facciamo un altro Alloys Melter che sarà dedicato solo ed esclusivamente a cuocere Dior e li metteremo qui qua ci mettiamo un bel Conduit e lo colleghiamo al Controller mentre qui estraiamo dal Controller che ha tutti ROW e inseriamo nel SagMill che secondo me è uno dei metodi migliori per processare dati tutti i suoi prodotti secondari e anche la possibilità di metterci le Grandin Ball che possono comunque aiutare parecchio il SagMill ha anche la possibilità di darci della Cobblestone e la cuoceremo in automatico facendola diventare se ne la metteremo qua e intanto la prima cosa che abbiamo ottenuto è stato l'alluminum che metteremo qui e ora che abbiamo la Colustone ci possiamo fare un bel po' di Energetic Alloy direi di utilizzarne un paio per farci delle Grandin Ball con cui processare lo Star Metal Ore qui ho fatto un altro SagMill e ci mettiamo un po' di Star Metal mi sa che dovrò automatizzarlo mi piacerebbe fare dei Capacitor avanzati solo che richiedono Melodica Alloy che richiede Handsteel Covechorus poi richiede Line Stone quindi è un po' avanti e inoltre ognuno di questi richiede due dei precedenti che richiede due dei precedenti che richiede due dei precedenti e così via quindi mi sa che lo faremo dopo aver fatto l'autocrafting dell'Upgrade inoltre una volta ottenuta la Stardust l'unico modo per convertirle in gotti è mediante l'Arc Fullness già con 24 Star Metalink ci possiamo fare 18 Basic Capacitor perché abbiamo finito la Grace of Infinity che sono 11 Double Layer Capacitor adesso ci serve un po' di Glowstone e il Vibrant Alloy che è Energetic Alloy Ender Pearl e azzola Deep Home Learning stiamo ottenendo tantissima Glowstone e soprattutto Ender Pearl quindi ci possiamo fare del Vibrant Alloy e continuiamo a farci dell'Energetic in questo modo ci possiamo fare 4 Octatic Capacitor e diamo una mano a loro due qua è passato al Silver cioè è passato l'ho fatto passare io per andare oltre agli Octatic Capacitor abbiamo il Crystalline Capacitor che richiede Prismarine Crystal che si può ottenere dal Pristian Guardian Matter da un Guardian Data Model quindi direi di farne uno e poi direi di spawnarne uno non ho la più palida idea di dove abbiamo ottenuto il Prismarine Shard o il Crystall però ma niente è disabilitato quindi li dobbiamo tutti e due insieme allo Spirit of Burting vengono consumati e ci dovrebbe spawnare un Guardian eccolo qua lo mettiamo dentro la Mob Impresument Tool e ne facciamo spawnare un po' ricordiamoci che dobbiamo farlo livellare ne abbiamo ucciso uno due ce ne manca solo uno e dovrebbe essere l'ultimo si basic tier adesso possiamo livellarlo all'interno della Simulation Chamber quindi qui ci impiegherà molto più tempo ma sarà automatico e potremmo anche ottenere delle Pristine Matter un altro data model che vorrei livellare passivamente è quello di Blaze ora qui avevo ottenuto una trial key con degli affix di Blaze Invader quindi immagino che durante questa trial spawneranno dei Blaze che noi potremmo utilizzare trial è iniziata vediamo oh si è spawnato un Blaze ce lo intrappoliamo qui dentro abbiamo completato la trial non ci interessa nulla della ricompensa qui siamo arrivati a processare il Lead che mettiamo qui quindi ci rimettiamo il Blaze e lo uccidiamo e basta un altro ed eccolo qua basic tier e anche questo lo facciamo livellare passivamente qui intanto abbiamo ottenuto due Pristine Guardian Matter e possiamo scegliere di farci 32 Prismarine Crystal poi se ci facciamo dei pulsetti in Crystal li polverizziamo per ottenere il Grains of Pietrality che poi uniamo insieme all'oro per ottenere il Cristalline Alloy Ingot possiamo fare un Cristalline Capacitor e questo ce lo mettiamo nell'Alloy Smelter a proposito di Efficiency per i tool Efficiency ci viene dato da Evorsio quindi direi di farci un altro Infused Glass con Evorsio Gelu e Mineralis vediamo se va al primo si è andato al primo wow quindi se adesso prima metterci no questi sono già incantati la Cowhide si può ottenere anche droppando la Rotten Flash nel Liquid Starlight e non consuma Liquid Starlight quindi il problema dei libri è più la carta che la pelle in sé però possiamo per esempio togliere gli incantamenti dal piccone e anche dalla palla e incantarli qui ma perché giorno di questo me l'ero completamente dimenticato il generatore di sabbia aveva smesso di funzionare perché non aveva generato sabbia ma Aquamarine quindi ogni tanto questo ci genera anche a Aquamarine me l'ero completamente dimenticato non è che me l'avevo così dimenticato ma non l'avevo calcolato per quanto credo che questo sia il metodo migliore sono al Crystal Link a passitore comunque la velocità è strabassa avevo anche staccato il rituale però l'ho riattaccato per altri motivi in ogni caso la velocità con cui ci siamo di ora è bassissima tra l'altro abbiamo anche finito il gold sarebbe davvero molto molto bella la meccanismo però per il momento credo che lo lascerò così perché non abbiamo un setup per l'autocrafting e sarebbe una cosa piuttosto importante da fare lo faremo nel prossimo episodio in questo direi di concluderlo con una fanno di alberi per farla ci serviremo dell'Industrial Foregoing quindi Plant Sower e Plant Gatherer ok stanotte questa lente funziona quindi abbiamo il piccone ci facciamo anche la pala abbiamo Efficiency 4 Breaking 4 e Fortuna 2 dato che ci siamo incantiamo anche un libro ed eccolo qua abbiamo Efficiency 4 Crosswalker 2 Federal Falling 4 Unbreaking 4 e Fortuna 2 e ce lo applichiamo al piccone ma volevo Fortuna 3 ma a quanto pare non si può fare strano possiamo disincantare uno di questi libri sì Efficiency Crosswalker Federal Falling Unbreaking e Fortuna possiamo applicare solo Fortuna sì perfetto per quanto riguarda il Plant Sower ci facciamo gli Spross Upping in alto a sinistra la Caccia Supping in alto a destra e tutto il resto facciamo Oax Supping e li blocchiamo così abbiamo un Conduit che va dal Plant Caderer al Plant Sower con una priorità di 1 e abbiamo l'Energia qua di lato quindi copiamo il tutto abbiamo un bel range upgrade di 3 quindi questa sarà l'area della farm ci abbiamo messo anche il Fertile Soil un pochino così gli alberi crescono in modo molto più veloce e lui ha un paio di upgrade e un range addon più 3 e è relativamente veloce otteniamo la linea a una velocità molto molto alta il che va bene ci sono sicuramente bisogno degli speed upgrade in ogni caso ho cambiato la configurazione del Plant Sower ho messo 2 di Acacia 6 di Wack e 1 di Spross perché gli Spross crescono in un 4x4 e sono davvero tanti poi ho collegato un Fluid Conduit per lo Sludge e anche l'Item Conduit a questo Drawer e ci ho aggiunto questi due Frame Drawer 2x2 con un Void Upgrade per gli eccessi e delle cose che non ti interessano tipo gli Acorn o il Silver Warm qua ci abbiamo i Drawer con la legna quindi Acacia Oakwood e Sprosswood come possiamo vedere lo Sprosswood è di più dell'Oak e produrremo anche più velocemente i prodotti di questo Sludge Refiner con questo direi che possiamo concludere e nel prossimo episodio ancora più risorse passive e soprattutto Autocrafting è di più